Ha avuto la chance per ammazzare il campionato il calcio crema nel girone A di terza, ma contro la Gilbertina non è andata oltre lo 0-0. Ha avuto la chance, d'altro canto, per accorciare la Piana Inghese, ma contro il San Luigi Pizzighettone non ha saputo fare meglio dei diretti rivali, uno a uno. Così i sette punti sono rimasti ed è difficile pensare che la capolista, mai sconfitta sin qui e unica imbattuta in tutta la provincia, possa perdere questo margine di sicurezza. Utile all'analisi di una lotta ristretta alle prime due, dato che Pizzighettone e Casale sono addirittura 8 punti dietro la seconda e dunque a meno 15 dalla prima, può essere uno sguardo al calendario. Lo scontro diretto cade il 2 aprile e si gioca a crema, dunque un'opportunità in più a favore della prima della classe. Ma non è l'unico indizio a spingere i ragazzi di Bettinelli, dato che il percorso, che può essere tortuoso in altre date, in particolare il 5 marzo contro il Casale, ma sempre in casa, sembra peggiore proprio per la piana inghese, chiamata dopo lo scontro diretto a un finale tostissimo in cui incrocerà il crescente Salvirola, oggi quinto, e il Pizzighettone in trasferta. In terza B invece la prospettiva è completamente diversa, quattro squadre in due punti al vertice, con la mantovana Cavriamponti che vincendo il recupero salirebbe alla pari del Gussola a 36 punti, ovvero a meno uno da Corona e Paderno oggi in vetta. Intanto proprio a Ponti sul Mincio domenica il Corona ha colto un successo campale, in ogni caso mancano molte gare da recuperare appunto e se è vero che il Paderno è stato l'unico team a giocare il 5 febbraio, è anche vero che la squadra di Bomber Barborini ha già riposato. Tutto passerà dagli scontri diretti? È probabile, dato che i faccia a faccia là davanti non sono pochi, Stagno-Gussola del 5 marzo ad esempio, ma anche Paderno-Stagno la settimana successiva, riposo per così dire fino al 23 aprile quando Corona-Gussola può essere la vera gara decisiva o forse tocca aspettare sette giorni dopo con Paderno-Corona in programma. Insomma ne vedremo delle belle dato che anche il calendario, proponendo due scontri diretti per ciascuna delle prime quattro, non sembra voler scegliere una favorita.